Buongiorno e bentrovati Siamo pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e anche le prime pagine delle principali testate nazionali e anche a rivedere alcuni dei servizi confezionati ieri dalla redazione del TG6 Iniziamo subito con le quattro edizioni del centro poi vedremo anche le prime pagine di Messaggero Abruzzo e della città Edizione Aquilana del centro ieri la giornata di insediamento per il neosindaco Biondi quindi l'apertura è questa Biondi chiederò una mano a Cialente si insiede il nuovo sindaco corsa per un posto da assessore PD i big esclusi e poi la foto al centro fallo, bomba, forchetta che strani paesi a Abruzzo di spalla anche qui il dopo ballottaggio d'Avezzano maggioranza zoppa ecco chi può cambiare casacca e poi ancora all'Aquila due richiami Accord Fenix Ravi Shankar lascia l'azienda tentata truffa a giudizio del tosto e poi in basso dopo il voto la spallata del centro-destra è il nostro turno e poi ancora Abruzzo insieme Gerosolimo fonda un nuovo movimento in basso Sulmona niente soldi salta il Caniglia concorso lirico internazionale costretto a chiudere i battenti e poi ad Avezzano Luigi Diacono ha 24 anni festa in chiesa con il Vescovo vediamo ora l'edizione di Chieti Lanciano Vasto la Movida chiude per protesta a Chieti niente autobus di notte tra lo scalo e il colle scatta la serrata di birrerie e pub e poi di spalla leggiamo Chieti meningite non contagiosa studentessa stazionaria altri richiami a Vasto Spizio Lager morto un imputato e poi Fabrizio Pellegrini che può scontare la pena nella sua Chieti in basso per il calcio Lanciano Ecco del Grosso presentato l'allenatore Rossonero sfida entusiasmante invece a Francavilla schianti nelle gallerie arrivano le telecamere edizione tenamana del centro questa l'apertura Mastropietro a giudizio per i rifiuti appalti sospetti a Roseto e Silvi imputati anche Diodoro e l'ex vice sindaco Marini dunque va a giudizio la dirigente del comune di Giulianova già invischiata nella inchiesta Castrum Poi ancora di Spalla leggiamo Ricchetti 90 in Cass integrazione rischiano gli interinali posti in bilico dopo il rogo e poi ancora Giulianova e Roseto i seguenti richiami Giulianova crisi il PD si autosospende dal comune a Roseto strisce blu parchimetri dal 5 luglio in basso scatta l'emergenza mezza provincia senza acqua si rompe una duttrice la zona più colpita è la Valle Vibrata a Castelnuovo nuovo orario alla Gelco ignorato il no degli operai la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro spari e minaccia i vicini di casa lancia dal balcone di Via Moro petardi bulloni e una marmitta finisce ai domiciliari tutto questo a Pescara sempre a Pescara la curia fa affari ex asilo venduto per 2,7 milioni a Pescara per la cronaca incontro in chat perseguitato da una donna a Chietti studentessa con la meningite non è contagiosa in basso leggiamo stasera allo stadio adriatico Cornacchia di Pescara la partita del cuore per amatrice artisti sportivi e cantanti in campo il ricavato ai terremotati per il calciomercato Pescara arriva Gans Zeman sorride e Di Marco sta per dire sì prima pagina del messaggero Abruzzo stop al far west di Pescara la faida di San Donato finisce ai domiciliari l'uomo che da mesi terrorizza un vicino con sparatorie e lancio di pezzi meccanici della finestra è accusato di atti persecutori sotto la testata sempre a Pescara la rivolta tuffi proibiti centinaia di selfie contro le multe agli escursionisti le banche salvate Ubi convoca i sindacati scure su sportelli e personale calciomercato colibali destinazione Inter Di Marco più vicino al Pescara nelle manovre del club biancazzurro prevalgono le cessioni e fatta anche per caprare la Sampdoria la società incasserà 5 milioni di spalla la politica ex DC orgoglio e nostalgia torna la festa dell'amicizia a Pescara tre giorni dedicati a nomi e conquiste della balena bianca la foto notizia gli abruzzesi nell'inferno del Venezuela le voci dal paese nel caos qui perdiamo tutto sempre in taglio medio l'Aquila per biondi il giorno del debutto con la fascia tricolore il dopo voto passaggio di consegne con Cialente comincerò dallo spoil system giusto cambiare e poi ancora in basso Larichetti riparte positivi i test dopo il rogo e ora siamo alla città il quotidiano della provincia di Teramo rogo le analisi non dicono granché nessun inquinante aereo attesa per i campioni di terreno il problema è la mancata evacuazione sotto la testata Roseto e Silvia appalti pilotati sui rifiuti i rinvii a giudizio sono sei e poi il processo per il crack gli ispettori di Banca Italia dicono Di Matteo aveva le chiavi della Tercas ovviamente l'ex direttore generale di Banca Tercas Di Matteo poi la foto notizia Giulianova le donne scendono in strada per la dottoressa uccisa Esther siamo noi e poi l'ecologica G emigra Teramo clamorosa decisione della società sportiva giuliese la crisi al comune di Teramo al centro-destra già proiettato a ciò che sarà il dopo Brucchi e poi la crisi a Giulianova giunta il PD gioca al rialzo sulle poltrone in basso a Roseto degli Abruzzi mercoledì scattano le strisce blu prevista una partenza con polemiche poi piste ciclabili Dino Pepe sconfessato un'altra volta lasciamo per ora le prime pagine delle testate locali andiamo a dare uno sguardo ora a quelle delle alle prime pagine delle testate nazionali partiamo dal Corriere della sera questa l'apertura vietati i porti alle navi straniere con i migranti ultimatum italiano alla Unione Europea subito aiuti e poi la fotonotizia Venezuela Corte Suprema colpita da un elicottero di spalla la politica il retroscena Renzi e le accuse non mi vogliono in piedi per il voto e poi ancora in basso Torino indagata l'Appendino un atto dovuto dopo una querela per Piazza San Carlo la prima pagina di Repubblica Migranti Italia pronta a chiudere i porti sbarchi insostenibili l'Unione Europea intervenga stop a ONG in navi europee portino i migranti nei loro paesi Minniti le parole del ministro Minniti servono subito atti concreti e poi ancora un taglio medio caos di Piazza San Carlo Appendino indagata e poi al centro della pagina scontro nel PD Orfini Franceschini sbaglia il segretario è stato scelto da 2 milioni di persone il PD appartiene a loro la prima pagina della stampa Migranti l'Italia vuole chiudere i porti prova di forza con l'Unione Europea per avere aiuti oppure le navi straniere non potranno più attraccare in due giorni 12 mila sbarchi i sindaci dicono no all'ipotesi tendopoli oggi a Berlino summit tra Gentiloni Merkel e Macron e poi l'editoriale di Stefano Stefanini è scaduto il tempo delle parole al centro pagina viaggio a Malta l'Eldorado nel cuore della tempesta in basso feriti in piazza Appendino indagata svolta nell'inchiesta di Torino dopo una querela al comune e lei dice non ho ricevuto alcun avviso la prima pagina del messaggero l'Italia dice basta porti chiusi emergenza migranti il governo a Bruxelles stoppa gli attracchi delle navi ONG straniere la richiesta è portare i profughi negli scali dei soccorritori Mattarella situazione ingestibile chiaramente questa notizia guadagna l'apertura un po' in tutte le testate l'inchiesta doping shock trovato positivo un ciclista di appena 14 anni sempre per lo sport Manolas dice no allo Zenit ma la Roma prende Gonalon in taglio medio la fotonotizia Caracas un tentato gol per a forza Maduro granate lanciate da un elicottero rubato il dittatore accusa la CIA e poi ancora Grana Pendino indagata per lesioni dopo gli incidenti il sindaco di Torino denunciata da alcuni feriti in piazza San Carlo atto dovuto della procura avanti ancora con libero l'apertura forse il governo si è svegliato blocco degli sbarchi l'invasione di clandestini ha superato ogni limite anche Mattarella ne ha piena le scatole Gentiloni pensa di vietare l'ingresso nei nostri porti alle navi straniere ONG comprese fosse vero farebbe la felicità degli italiani poi la politica con le due versioni sul futuro del centro-destra nell'articolo di Pietro Senaldi Berlusconi e Salvini si mettono insieme lo chiede la gente poi di contro la versione di Vittorio Feltri nozze impossibili fra due galletti dalla cresta alta la fotonotizia demagogia pontificia il Papa dà le pensioni a tutti ma non ha i soldi per pagarle avanti con il tempo non è qui la festa capitale allo sbando oggi è la celebrazione dei santi patroni ma c'è poco da stare allegri tra degrado giunta incapace aziende in crisi e qualità della vita picco la città è un inferno e poi la fotonotizia vogliono torturare a morte anche il prigioniero dell'Utri a tal proposito il tempo lancia una raccolta di firme per scongiurare questa cosa in basso quelle telecamere cinesi a guardia dei ministeri ombre sulla ditta produttrice controllata da Pechino siamo al giornale emergenza immigrazione chiudiamo l'Italia boom di sbarchi ultimatum del governo dell'Unione Europea aiutateci o brindiamo i porti ma Bruxelles ci offre soltanto le elemosine poi anche qui di spalla senza pietà se lo Stato vuole fare morire dell'Utri dietro le sbarre e poi in taglio medio legge elettorale rinviata ora è ufficiale non si va al voto e poi la foto al centro la vita misteriosa della donna in giallo Sciarelli indagata con Woodcock altri guai per i 5 stelle dopo raggi indagata a Pendino avanti ancora con il mattino l'Italia all'Unione Europea chiudiamo i porti in due giorni 12.000 migranti via alle tendopoli Mattarella situazione ingestibile passo formale del governo con la Commissione Europea mentre il Viminale studia un nuovo piano per l'accoglienza il fatto quotidiano migranti il PD si butta a destra Gentiloni Miniti e Company parlano come i 5 stelle ma non erano leghisti 12.000 persone su 22 navi in 72 ore Mattarella fenomeno ingovernabile e poi sotto la testata la Boschi non risponde alle 4 domande del fatto da 9 giorni abbiamo chiesto spiegazioni sullo scandalo Etruria e c'è il silenzio e poi le parole del filosofo Massimo Cacciari Renzi bambino autoritario ma Prodi dove va? e poi al centro i paninsesti del Renzus Cognano Orfeo la Nuova Rai via Giletti torna Perego e Benigni punto di domanda avanti con il secolo XIX migranti Roma l'Unione Europea chiudiamo i porti in Liguria 309 arrivi prende quota l'idea Tendopoli ma Genova frena vogliamo un confronto con il prefetto il manifesto fronte del porto i porti italiani potrebbero essere chiusi alle ONG straniere che salvano i migranti Gentiloni cede alle destre e avverte l'Unione Europea basta girare la testa ma Bruxelles replica gli sbarchi sono regolati dal diritto internazionale e poi MSF Libia nel caos l'unico approdo è l'Italia avanti ancora con gli ultimi quotidiani le ultime prime pagine da vedere il gazzettino migranti d'Italia chiudiamo i porti gazzetta del mezzogiorno migranti fronte dei porti infine la verità cambia il titolo d'apertura l'ex premier ha cerchiato è partita la caccia a Renzi ex amici sindaci finanza sedio al segretario che usa il partito solo per sé ma lui non molla proverà a far saltare il banco per votare tanto paghiamo noi e poi la foto con il ministro Minniti definito il genio della lampada contro l'invasione il ministro scrive all'UE che gli ride in faccia e poi in taglio medio intanto il bullo colonizza la nuova Rai i palinzesti arrivano arriva Saviano riecco Benigni Giletti in bilico la 7 chiude la gabbia possiamo lasciare le testate nazionali torniamo su quelle locali andiamo all'interno del centro ripartiamo da pagina 2 e 3 ancora una volta con le reazioni dopo i ballottaggi in particolare quelli in Abruzzo con le vittorie particolarmente significative di Biondi all'Aquila di De Angelis ad Avezzano ed è resa dei conti in regione spallata centrodestra ora è il nostro turno Sospiri di Forza Italia dice dobbiamo subito mettere in piedi una proposta di governo ad Alessandro del PD programma di fine legislatura e poi una nuova vittoria il capogruppo forzista siamo già in ritardo la gente ti vota se sa cosa vuoi fare il candidato governatore ce n'è più di uno l'importante è l'unità e poi il portavoce della maggioranza il nostro obiettivo è puntare al 51% dei consensi di Alfonso punta a ottenere 400 mila voti e poi ancora nasce Abruzzo insieme Gerosolimo con me 400 amministratori per cambiare la politica l'assessore dice l'assessore regionale Gerosolimo dice il nostro è un grande contenitore civico per chi non vuole più aderire ai partiti tradizionali il sostegno a De Angelis ad Avezzano è nato perché c'è la comune condivisione di un progetto che stiamo portando avanti in tutti i territori della regione io in corsa per la presidenza della regione nel modo più assoluto no decideranno i sindaci il percorso politico ed eventuali candidature alle prossime regionali e ora pagina 4 e 5 strani paesi d'Italia Paperino Purgatorio Gnocca e Altola da nord a sud i nomi più sono i nomi più curiosi delle località nazionali e in Abruzzo dai classici Fallo e Bomba a Cianchetta e Forchetta ecco da dove vengono i nomi più strani e insoliti delle località della nostra regione come Cappadocia omonima località dell'Anatolia Tossicia Filetto e Controguerra poi ancora leggiamo a Fallo in provincia di Chieti l'attore Michael Madsen reso celebre dal ruolo di Mr. Blond nel film Le Iene di Quentin Tarantino addirittura ha comprato una casa poi ci sono Buonanotte Borgo abbandonato in provincia di Chieti ma anche Sperone e Passo del Diavolo entrambe frazioni di Gioia dei Marsi nell'Aquilano avanti ancora andiamo nelle pagine della cronaca di Pescara ecco qui l'affare della Curia l'ex asilo delle suore venduto a 2,7 milioni ceduto a un imprenditore del settore medico l'istituto Staccioli sulla riviera potrebbe diventare una villa più rivata il vescovo soldi reinvestiti nella diocesi e poi tre giorni di festa in onore di San Cetteo da domani a domenica le celebrazioni estive per il Santo Patrono tanti concerti e una grande lotteria e poi ancora incidenti file soste libere saprete tutto in tempo reale Sinergia AC Comune scatta da domani il servizio luce verde via internet mentre si è alla guida sarà possibile conoscere quali sono le strade più trafficate il progetto è stato presentato ieri in Comune vediamo il servizio la quinta città in Italia a poterne usufruire quindi per noi è veramente un vanto poterla offrire al Comune di Pescara come servizio di Automobile Club d'Italia tramite ACInfo Mobility che è una società in house di proprietà proprio di Automobile Club d'Italia è un progetto che abbiamo voluto fortemente anche su Pescara siamo riusciti ad averlo prima di tante altre città che si propone di dare quelle notizie che spesso i cittadini non riescono ad avere per tempo e quindi tutto quello che accade nella città tutte le notizie che arrivano al centro della Polizia Municipale che raccoglie per incidenti per chiusure per un allagamento improvviso tutto quello che potrebbe impedire la normale circolazione dei veicoli o dei pedoni o di quant'altro viene inserito in questo sito viene elaborato dal nostro sito di ACIF Info Mobility a Roma è comunicato tramite una serie di radio locali e anche sui cellulari possono arrivare degli alert degli avvisi e entro fine anno creeremo una app apposita nella quale il cittadino cliccando va e vede la situazione attuale del traffico nella città funziona per Roma Napoli e Milano con i problemi che hanno queste grandi città noi speriamo che possa funzionare ancora meglio Pescara Pescara che è tra l'altro presidente ha proprio storicamente grossi problemi di mobilità di circolazione e di traffico in città soprattutto in alcuni periodi dell'anno Pescara ha grandi problemi di mobilità perché è una grande città ha tanti abitanti ma soprattutto più di 100.000 auto entrano ogni giorno in città per motivi diversi il territorio però è quello che è 100.000 abitanti su un territorio un po' più vasto non è poi tanto ma su Pescara che vede tutto questo traffico in entrata e in alcune ore poi la sera in uscita ci sono delle difficoltà La cronaca si innamora in chat e perseguita un uomo trentenne pescaresi arrivata a fare 50 telefonati in un'ora il giudice le ha vietato ogni forma di comunicazione poi in basso no al rimborso per il viaggio i quattro anziani dimenticati dal bus in autostrada non saranno risarciti avanti ancora sempre per la cronaca spari e minacce arrestato vicino terribile in via Aldomoro bulloni marmitte e petardi contro una famiglia visbudello con il coltello minacciava ed è ai domiciliari in alto mare il sindaco chiede l'abbreviato Alessandrini e del vecchio accusati di omissione fascicolo unico con la City e poi ancora truffa del falso incidente altri tre casi pensionati nel mirino di una banda uno degli scampati per lo spavento mi stavo sentendo male e poi la partita del cuore questa sera allo stadio dioretico Cornacchia di Pescara attori sportivi e cantanti tutti in campo per Amatrice triangolare questa sera allo stadio e il ricavato sarà devoluto ai terremotati si sfideranno Abruzzo lo star l'armonie e i vigili del fuoco saranno presenti anche i familiari delle vittime di Rigopiano biglietti a 2 euro italiani possono essere acquistati attraverso il circuito ciao tickets o direttamente al botteghino dell'Adriatico ecco qui alcuni dei protagonisti della serata con Sossiaruta che ora è famoso insomma per le sue partecipazioni a Uomini e Donne ma è stato anche ex centravanti del Pescara vediamo anche Vittantonio Liuzzi il pilota di ex pilota di Formula 1 l'ex tecnico del Pescara Giovanni Galeone c'è anche la asciogherra Raffaella Zardo il sindaco di Amatrice Pirozzi tanti insomma i protagonisti di questa serata per Amatrice Avezzano elezioni con giallo maggioranza zoppa grandi manovre chi può influire sul futuro sul futuro politico in cubo Volta Gabbana per Di Pangrazio pronto un documento per bloccare i cambi di casacca alcuni consiglieri neofiti altri fedelissimi ma c'è anche chi ha un passato fatto di cambiamenti e poi ancora al porto turistico e qui torniamo a Pescara sfidano le collezioni abruzzesi domenica sera la sfidata della scuola Pianeta Moda Fashion Academy i capi raccontano le unicità e le eccellenze della regione coinvolte 22 aziende poi in basso leggiamo Neri per caso stasera alle Paiotti il concerto apre la stagione del locale di De Cecco Gucci Band Raff e Miss Italia Montesilvano il cartellone estivo a proposito di eventi estivi concerti e feste all'aperto la Riviera chiude la sera il divieto scatta da martedì all'eventi il sindaco dobbiamo promuovere la città tra gli eventi i concerti di Edoardo Vianello Antonella Ruggero e Mazzocchetti allora ieri la presentazione del cartellone di eventi estivi del comune di Montesilvano vediamo il servizio abbiamo allestito un cartellone come del resto negli ultimi due anni che possa in qualche modo accontentare tutti i gusti e coprire le varie zone di Montesilvano gli eventi di spicco sicuramente sono quattro che sono quelli legati a quattro concerti che si terranno nei mesi di luglio e agosto il concerto di Piero Mazzocchetti il concerto di Edoardo Vianello il 15 agosto il concerto di Antonella Ruggero sempre ad agosto a Montesilvano Colle e il concerto di Fabio Curto vincitore di The Voice of Italy del 2015 per me è un momento molto bello molto importante non nego che erano diversi anni che la cittadinanza gli amici di Montesilvano insomma tutte le persone che mi sostengono da anni volevano che rifacessi un concerto e abbiamo avuto la possibilità di metterci d'accordo e cercare di venirci incontro visti i tempi difficili e duri che sono però credo che la volontà delle persone la voglia di fare comunicazione parlare di un linguaggio universale come la musica da Abruzzese da Montesilvanese nella mia terra credo che sia una condizione con la quale non poteva assolutamente tirarmi indietro ci sarà anche la notte dei saldi ci saranno tre notti in realtà sul Corso Umberto quest'anno le due tradizionali si è aggiunta una terza e avranno ogni notte una tipologia di evento si partirà con la prima dedicata al mondo delle cover la seconda al mondo dei bambini e la terza al mondo dell'animazione degli artisti di strada Confesercenti poi il 13 e 14 luglio organizzerà l'attività di Cerasuola Mare che siamo arrivati alla quarta edizione un'attività dedicata al vino Cerasuolo fatta negli stabilimenti balneari dal tratto da Bagni Bruno fino ai grandi alberghi una passeggiata serale con il bicchiere di vino e i buoni cibi offerti dai balneatori tanti gli eventi nell'estate di Montesilvano ci sarà anche tanta musica Montesilvano Pop Rock Music Fest e avremo le giornate 3, 4, 5 e 6 di agosto di quest'anno le prime tre giornate saranno la battaglia delle band emergenti e la terza quella dei cantautori la cosa molto importante è che avremo molti ospiti che provengono appunto dalle iscrizioni di Sanremo Sanremo Giovani Area Sanremo e oltre a questo anche degli ospiti a livello internazionale tra i giurati e alcuni che poi si esibiranno durante le varie serate Nel Pescaresi a Città Sant'Angelo sempre sul centro raccomandate in ritardo rischia di perdere il posto disavventura per un tecnico informatico atteso a Roma la convocazione da parte del ministero recapitata fuori tempo massimo siamo in questo caso a Francavilla telecamere sorpassometro contro gli schianti in galleria il comune scrive a prefetto e regione dopo gli incidenti alle piane l'obiettivo è azzerare i comportamenti scorretti di auto e moto e ridurre i rischi mai più multe all'orta Di Marco scrive al prefetto il presidente della provincia e sindaco di Abbateggio vanno garantiti i visitatori e l'associazione Terre Maiella Morrone offre assistenza legale ai 68 turisti multati poi a penne botta e risposta tra gli assessori Di Vincenzo e Sclocco piano sociale e scontro tra comune e regione la pagina di Chieti del centro meningite la studentessa non è contagiosa parla Vecchiet direttore della clinica di malattie infettive la prognosi è ancora riservata ma c'è un cauto ottimismo e poi di spalla Pellegrini a Chieti e ai domiciliari e lotta per le cure e poi ancora a Chieti niente autobus di notte 12 locali fermano la Movida Castelfrentano pestato dopo la scarcerazione uno degli arrestati per la RIS di qualche giorno fa pagina Aquilana con il nuovo primo cittadino Biondi chiederò una mano a Cialente dice nel giorno dell'insegnamento fair play dopo gli insulti nel passaggio di consegne in comune sempre nel rispetto dei ruoli e degli elettori dice Biondi Tinari verso la presidenza del consiglio comunale poi in basso io ostaggio del treno per 70 km pendolare denuncia dovevo scendere sul Mona le porte non si sono aperte pagina Terramana del centro appalti rifiuti Mastro Pietro a processo per le gare di Roseto e Silvi per lei un'altra grana oltre all'inchiesta Castrum imputati anche l'imprenditore Diodoro e l'ex vice sindaco di Silvi rinvieti a giudizio pure un funzionario comunale un consulente un collaboratore dell'azienda le accuse ipotizzate dai PM De Feis e Sciarretta sono turbata libertà degli incanti falso ideologico e poi ancora in taglio medio leggiamo si rompe una aduttrice Val Vibrata a secco interessati anche altri comuni collinari e parte della costa il ruzzo ricorre al potabilizzatore noi ora ci fermiamo con la prima parte di mattino 6 spazio alle previsioni del tempo poi alla pubblicità e poi rientriamo con Messaggero Abruzzo e la città a dopo Di nuovo buongiorno è la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il Messaggero Abruzzo e con queste testimonianze che arrivano dal Venezuela dopo il tentato golpe dell'ultime ore abruzzesi nell'inferno del Venezuela qui perdiamo tutto un giovane sarebbe stato arrestato durante il tentato golpe Terramano con la figlioletta bloccato nell'assalto al supermarket di Giacomo Antonio racconta l'esperienza shock della comunità travolta dal caos del paese e poi ancora che richiede le altre la scure di Ubi prevede suberi e chiusura di figliali sindacati convocati a Bergamo per l'avvio delle trattative e rischi maggiori nell'area metropolitana siamo alla pagina di Pescara arrestato il giustiziere di San Donato per me si è combattuto una guerra con un vicino di casa con sparatorie e il lancio di pezzi meccanici dalla finestra per Modestino Orecchia sono scattati ieri domiciliari accusato di atti persecutori minacce lesioni e altro la faida iniziata l'estate scorsa è andata avanti fino a marzo secondo quanto accertato dalla squadra mobile della Questura e poi ancora sempre per la cronaca diritto in alto mare testi sotto Torchio indagini serrate sulla scomparsa di una brasiliana da una nave MSC all'allargo di Pescara il muro dell'omertà e poi in basso fino a 50 telefonate in un'ora e per lei scatta l'accusa di stalking misura cautelare per una trentenne pescarese vittima è un uomo di massa conosciuto attraverso il web poi ancora i politici scelgono il rito abbreviato siti e mare inquinato nuovo rinvio dell'udienza preliminare sui due casi le richieste di Alessandrini del Vecchio Albolemas e Antonelli causano lo slittamento e allora a tal proposito vediamo il servizio i legali del sindaco di Pescara Marco Alessandrini e del suo ex vice Enzo del Vecchio si preparano a chiedere il rito abbreviato nel procedimento penale relativo all'inchiesta sulle cosiddette ordinanze fantasma dell'estate 2015 per le quali sono finiti sotto indagine della procura di Pescara assieme al dirigente del comune adriatico Tommaso Vespasiano i tre sono accusati di concorso in omissioni di atti di ufficio per aver omesso stando all'accusa sostenuta dai PM di Serio e Mantini di emanare idoni i provvedimenti amministrativi volti a tutelare la salute pubblica e ad impedire la pubblica balneazione nei tratti di costa l'inchiesta ruota attorno alla rottura della condotta del depuratore di Pescara in via Raiale che determinò lo sversamento in mare di 30.000 metri cubi di liquami e alla ordinanza del 3 agosto del 2015 l'accusa sostiene che fu tardiva rispetto al momento in cui gli amministratori erano stati messi al corrente della non balneabilità delle acque il procedimento penale sulla balneabilità del mare di Pescara che si trova nella fase dell'unienza preliminare è stato unito a quello relativo alla City il complesso edilizio che sorge sempre a Pescara nei pressi dell'aeroporto d'Abruzzo le indagini sull'estate 2015 infatti partirono da un'intercettazione telefonica nell'ambito dell'inchiesta madre sulla City anche per la parte del processo relativa al presunto abuso edilizio gli avvocati dell'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e dell'ex assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Antonelli si preparano a chiedere il giudizio secondo il rito abbreviato per quanto riguarda la City gli imputati complessivamente sono 15 oltre a Mascia e Antonelli sono coinvolti nel procedimento l'imprenditore Marco Sciarra legare rappresentante della società iniziativa immobiliare abruzzese l'amministratore unico della società Imar Costruzioni Giovanni Pagliarone il direttore dei lavori per le opere strutturali l'ingegnere Carlo Galimberti il direttore dei lavori architettonici l'architetto Mario Durbano tra gli imputati per abuso d'ufficio anche una serie di dirigenti della regione abruzzo del comune di Pescara Antonio Sorgi Carla Mannetti Gaetano Silveri Emilia Fino Pierluigi Caputi Mario Pastore Gaetano Pepe Lanfranco Chiavaroli Enrico Iacomini al centro dell'indagine c'è la variazione di destinazione d'uso deliberata dalla giunta Mascia il GUP Gianluca San Andrea ha aggiornato l'udienza al prossimo 17 novembre sempre sul messaggero caldo infernale alla Stroke Unit e in altri reparti pazienti a rischio la mancanza di condizionatori peggiora le condizioni dei degenti l'ASL dice interverremo avanti ancora tuffi proibiti scatta la disobbedienza di Laga la protesta contro le multe ai 68 escursionisti beccati domenica a fare il bagno nei torrenti del Parco Maiella l'ex sindaco di San Valentino posta su Facebook il selfie della nuotata in acque vietate in centinaia lo imitano scendono in campo le istituzioni locali in difesa dell'agibilità turistica della zona dell'orta ed ecco lo scatto la foto Angelo Dottavio ex sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore che nuota nell'orta la marcia dei pennesi in difesa dell'ospedale dopo Popoli scatta la mobilitazione anche nell'area vestina e avverrà questo pomeriggio pagina anzi pagina aquilane bollette al progetto case non ci sarà alcun salasso somme in media tra i 150 e i 200 euro e in corso l'invio agli assegnatari nel frattempo è stato messo appunto il metodo di rilevazione dei consumi la dirigente comunale Enrica De Paoli sarà sicura dopo l'allarme dei residenti poi ancora di spalla festival della partecipazione con Elio Madia e Camusso presentata la nuova edizione della Kermes che lo scorso anno fece registrare presenze record in basso 29 milioni per il recupero delle chiese il commissario e Rani approva il secondo programma di investimento in Abruzzo interessati 19 luoghi di culto Biondi si insedia e annuncia subito lo spoil system fair play con Cialente nel giorno dell'insediamento in comune i nemici sono fuori dalle mura con Massimo collaborerò non farò il tagliatore di teste sostituzioni solo quando si potrà poi ancora nuova giunta oggi le consultazioni si cerca la quadratura del cerchio ci sono alcuni nodi da sciogliere nei singoli partiti Forza Italia punta su Liris come vice sindaco e Tinari alla presidenza del consiglio e a questo punto andiamo a vedere il servizio della nostra redazione aquilana proprio in riferimento alla giornata di insediamento di Pierluigi Biondi a questo fair play appunto con l'uscente Massimo Cialente Pierluigi Biondi è formalmente da stamane il nuovo sindaco dell'Aquila la proclamazione è stata effettuata dall'ufficio centrale e c'è stato oggi il passaggio di fascia da Massimo Cialente sindaco uscente a Biondi stesso Cialenti ha voluto dare il suo in bocca al lupo speciale al neosindaco Biondi che dal canto suo ha ringraziato Cialente per avergli permesso già da ieri di essere a Roma con lui per iniziare a prendere visione di tutte le cose che riguardano il comune e per i consigli ha detto che sicuramente gli chiederò in questi cinque anni con la fine del mandato di Massimo Cialente finisce un'epoca il neosindaco ha già le idee chiare però sul futuro ha già incontrato i dirigenti comunali ha chiesto loro una relazione sul loro operato finora allora non so se tutta sta gente per la fine del regno del sire Massimo Cialente o per un passaggio comunque insomma importante per la storia di questa città allora voi lo sapete da cronisti attenti e spesso anche un po' maliziosi insomma che io e Massimo in passato ce le siamo anche date di santa ragione perché intanto siamo due animali politici ma non politici di professione siamo due animali politici nel senso che la politica la viviamo con grande passione con grande impegno e con anche con una visceralità magari che qualche volta va oltre però comunque è un clima che chi fa politica conosce che però non prescinde mai dal rispetto e anche da un principio che è quello della continuità amministrativa e dello stile del garbo istituzionale tanto è vero che ci siamo sentiti immediatamente sia la notte delle elezioni sia il giorno dopo ieri addirittura siamo andati a Roma insieme lui mi ha consentito di iniziare ad esercitare le mie funzioni benché ancora non ci fosse l'ufficialità della proclamazione e credo che in futuro quando avrò bisogno come già mi ha detto sarà a disposizione insomma per farmi un po' il riassunto delle puntate precedenti l'Aquila è una città non ve lo devo spiegare completa con tantissime esigenze ad Avezzano l'anatrazzoppa mette il bavaglio alla città sulle recenti consultazioni elettorali è calato il silenzio ormai tutti smentiscono tutto dietro fronte su Verrecchia vice alla faccia dell'invocata Trasfarenza nessuno si pronuncia la parola alla commissione elettorale che sta per pronunciarsi il sindaco di Angelis potrebbe essere messo in minoranza alla prima seduta e dunque si andrebbe a elezioni anticipate e poi ancora niente finanziamenti il caniglia da Forfè a Sulmona Vittorio Masci dalla regione nessun segnale mentre comune sponsor hanno dimezzato i fondi Pagine di Chieti Cannabis terapeutica Pellegrini pronto a denunciare la ASL è tornato a casa per scontare l'ultima parte della pena per aver coltivato cannapa invoca il diritto a cure gratuite l'uomo è indigente lamenta sofferenze per la fibromialgia patologia esclusa dall'accesso a farmaci gratis accolta a distanza dell'avvocato di nanna per il trasferimento del paziente dalla comunità di Crevalcore e poi la studentessa colpita da meningite medici fiduciosi dopo le prime analisi non sarebbe la forma più grave profilassi per 15 persone siamo a Lanciano le fermate dei bus all'abbandono sondaggio di Ascom e Arco sui trasporti promuove Difonso ma boccia il comune per l'offerta carente di servizi a terra senza di accessi per disabili e non vedenti informazione inadeguata su orari e percorsi le proposte per migliorare sollecitato un piano comunale o scatteranno azioni sul fronte legale e politico a vasto branco di cinghiali vicino alle case ormai viviamo nell'emergenza testimonianza shock di una signora mio figlio bloccato dalla paura mentre stava andando al lavoro e a Tortona coletti anche la stazione marittima inserita nel piano triennale del porto accolta la proposta dal comitato di gestione per completare l'opera servono 2 milioni e 300 mila euro per i lavori previsti inoltre il dragaggio e vari interventi pagine terramane del messaggero Patrono Richetti entro tre mesi ripartiremo più forti di prima il numero uno dell'azienda distrutta tranquillizza gli operai riuniti in assemblea dopo il devastante incendio l'analisi dell'arta sull'ambiente sono rassicuranti il comandante dei vigili Panzone siamo al lavoro per spegnere gli ultimi focolai resta in balo il futuro di 200 famiglie i sindacati pensano alla cassa integrazione e poi Giulianova comune tra scontri e dimissioni lite a sondi documenti tra il sindaco Mastro Mauro e il PD intanto saluta il vice presidente dell'ente porto di Giacinto Filipponi e Vasanella critici non c'è stato un cambio di passo il primo cittadino sono sorpreso percorso condiviso con loro lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo a sfogliare ora le pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo l'incendio alla Richetti inquinamento le analisi dicono poco o niente nessun inquinante nell'aria attesa per i campioni di terreno il problema è la mancata evacuazione durante il rogo la bonifica i vigili del fuoco hanno iniziato la rimozione della copertura in Eternitz distrutta durante l'incendio attesa per i rilievi sui terreni sul posto resta una centralina dell'arta per le analisi di inquinanti aerei il vero rischio inquinamento c'è stato durante il rogo con l'amianto bruciato e la mancata evacuazione di operai e curiosi vediamo il servizio della nostra redazione teramana trovato un accordo per i quasi 200 lavoratori della Ricchetti azienda produttrice di fette a latte di Sant'atto di Teramo andata distrutta da un terribile incendio un'intesa portata avanti dai sindacati e dalla proprietà per affrontare questo difficile momento e che si concretizzerà in 13 settimane di cassa integrazione per i dipendenti a tempo indeterminato e il ritorno immediato al lavoro nell'offificio adiacente ex food invest invece per gli interinali che altrimenti non avrebbero avuto alcuna copertura sul fronte ambientale si è tenuto un tavolo tecnico coordinato dalla prefettura di Teramo alla presenza di Arta Asli ZS provincia carabinieri e sindaci dei comuni interessati al possibile inquinamento Teramo Castellalto Mosciano e Bellante in attesa delle analisi il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha però emanato un'ordinanza che impone misure di prevenzione per le 24 ore successive per un chilometro intorno al cono di Nube che si è sprigionato dalla Richetti imponendo il divieto di pascolo e di consumo di frutta ed ortaggi nell'area di rispetto per quanto riguarda le cause dell'incendio che ha distrutto i due terzi dell'azienda Teramana nessuno ancora si è pronunciato sulla natura accidentale o dolosa del rogo una prima stima parla di due milioni di danni tra struttura materie prime prodotti semilavorati ma c'è anche tanta voglia di ripartire espressa dalla proprietà che prevede di trasferire ciò che resta della Richetti nell'azienda vicino e riprendere il prima possibile la produzione intanto dalla ricognizione effettuata dall'ASL con il supporto dell'ARTA è emerso che alcuni frammenti di materiale contenente amianto sono ricaduti solo nel cortile della ditta Alfagomma confinante con l'azienda bruciata e che si è già disposta alla messa in sicurezza del sito si è provveduto inoltre a bloccare il conferimento nella fognatura consortile delle acque di prima pioggia accumulate nelle vasche comprese le acque di spegnimento inoltre secondo i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio del distretto provinciale dell'Aquila al momento dei prelievi nelle postazioni di controllo esterne allo stabilimento i composti organici volatili generati dall'incendio non risultavano rinvenibili a concentrazioni significative la politica sulla città centrodestra già proiettato al dopo Brucchi Gatti parla del bilancio che erediterà il commissario il segretario del sindaco Ciarroni verso la candidatura sul fronte delle opposizioni l'obiettivo è contattare tutti per firmare la mozione di sfiducia avanti ancora Cractercas in aula gli ispettori di Banca Italia i controllori che passarono in rassegna carte, conti e investimenti punto nel dito contro l'ex DG Di Matteo il passaggio chiave a Di Matteo furono date le chiavi di Tercas da lì la conservazione del patrimonio è andata scemando motociclista ferito siamo alla cronaca motociclista ferito dal cordolo della ciclabile grave incidente martedì sera in uno dei punti più pericolosi della gammarana artigiano 53N in ospedale e poi ancora per gestire la villa bisogna esternalizzare la proposta dell'ex assessore Di Stefano contro il degrado e l'incuria del giardino comunale avanti ancora con le notizie dalla provincia di Teramo le donne scendono in strada per Esther siamo noi a Giulianova la fiaccolata per la dottoressa uccisa dallo stalker l'avvocato ascoltato in commissione femminicidio ecco un momento della sfilata con lo striscione Esther siamo noi Isola del Gran Sasso nuova scuola dalla Genziana al Prosecco a donare il primo modulo del polo scolastico sarà la croce rossa firmata l'intesa con regione e comune qui il brindisi del sindaco di Isola di Marco e del presidente della regione D'Alfonso guasto alla duttrice vibrata senza acqua la carenza idrica aggravata dalla rottura il ruzzo mobilità i tecnici rischio rubinetti a secco anche a Giulianova avanti ancora masterplan cinghiali e ciclabili da Alfonso sconfessa Pepe niente fondi per il percorso lungo il vibrato i 40 milioni della regione saranno dirottati sulla viabilità disastrata Pepe annuncia una pioggia di fondi sulla vallata più che altro si tratta di una cascata di figuracce avanti ancora con la pagina di Roseto e Silvi appalti pilotati per i rifiuti a processo in sei rinviata a giudizio la dirigente Mastro Pietro già ai domiciliari insieme ad Ercole Diodoro e amministratori di Silvi sembrano sgonfiarsi i filoni di Roseto e Mosciano stralciati l'ex sindaco Pavone il dirigente Patacchini l'ex sindaco di Marcello di Mosciano un funzionario di Silvi e altri tre indagati poi ancora da mercoledì il parcheggio si paga il servizio a Roseto sarà gestito dalla Telecom la riscossione dal comune lasciamo le pagine della città andiamo ora a chiudere siamo nella parte finale della nostra rassegna andiamo a chiudere con le pagine dello sport ripartendo dal centro e poi vedremo anche il messaggero Zeman sorride arriva Gans e Di Marco sta per dire sì è fatta per la punta della Juve entro domani il terzino darà una risposta Blitz a Milano definito l'accordo del Bomber accordo con l'Inter per Coulibaly ai milanesi anche Pompetti e Pescheto la breve l'ufficialità per l'attaccante il laterale interista tentato dall'Atalanta si è preso qualche ora per riflettere intesa tra i club per il senegalese ma serve l'ok del giocatore offerta del Cruz Azul Messico per Brugman e poi ancora in basso oggi la decisione sui tecnici delle giovanili quadro chiaro dopo i mancati accordi di Ruscitti e Iervese col San Nicolò primavera Pesoli vice di Epifani sul fronte Lega Pro Teramo Bruno rifiuta si stringe per candido l'esperto centrocampista del Pescara ha parlato con il DS Repetto manifestando la volontà di non scendere di categoria piace Pietro Antonio ex di Chieti e L'Aquila per la serie D San Nicolò Lucarelli in pole position Iervese rinunce e spunta l'ex paterno Vastese in arrivo Bittaie e Padovani due ex giocatori dell'Avezzano e poi la rinascita del Lanciano ecco del Grosso una sfida entusiasmante presentato l'allenatore Rosso Nero il neopatron De Vincentis non si arrende ora siamo in prima categoria ma si spera chiaramente nel ripescaggio il nuovo DS è Paciarella ex Francavilla che ha seguito appunto De Vincentis anche egli in questo percorso da da Francavilla a Lanciano poi ancora il riconoscimento ai detenuti frentani della Coppa disciplina la Libertas Stanazzo il trofeo fair play assegnato dalla Federcalcio palla a volo dia 2 Pesare nuovo acquisto dell'impavida la Seguo è ingaggiato il 22enne libero dal Teate Volley poi per il ciclismo l'abruzzese Cataldo al Tour de France Cataldo pedala verso Parigi che onore andare al Tour il ciclista di Milianico della Stana sabato prenderà il via alla Grand Boucle sono molto contento ho una buona condizione e proverò a far trionfare Aru mi manca Scarponi ero una grande persona oltre che un prezioso compagno un sogno in futuro mi piacerebbe vincere il Matteotti e ora passiamo al messaggero anche in questo caso si riparte dal mercato del Pescara Pescara si avvicina Di Marco Sebastiani a Milano per una maxi trattativa con l'Inter ceduti ai nerazzurri Baby Coulibari Pompetti e Peschetola Caprari passa la Sampdoria nell'operazione Scriniar nelle casse del Delfino andranno circa 5 milioni e poi da Bassano ecco Barison Carcaris ai Veneti scambio di prestiti incontro positivo con la Juve per Gans affare chiuso a breve l'annuncio poi novità in casa Teramo Teramo domani la firma del nuovo DG Capaldi Repetto si attiva Bruno ha detto no si tratta per Candido da Pescara Calore Paolucci e Milillo e poi ancora siamo ancora al calcio ma al calcio di serie D Branicchi in Pol per conto riguardo alla Vezzano Vastese c'è il sì di Fiore è ufficiale la conferma di Nicola Fiore per la Vastese e poi ancora sempre per la serie D l'Aquila ora si lavora in attesa dei nuovi soci verso la permanenza il blocco giovane è complicata invece la conferma di Peluso poi cambiando disciplina per il basket Teramo prime conferme Chieti torna Gialloreto il quintetto Teramano riparte da Salamina e La Gioia all'esterno può essere il primo colpo del nuovo club teatino del patron Marchesani Giulianova in panchina arriva a Tisato l'esterno di Emilio nel mirino del Campli e poi sempre per il basket Sharks un mercato low budget e inventiva e non è una novità negli ultimi anni per Roseto che comunque se l'è sempre cavata egregiamente Vole idea 2 dalla teatricchieti Ecco Pesare l'ultimo acquisto in casa Sieco e poi per i direttanti la presentazione di Del Grosso possiamo aprire un ciclo Del Grosso neo allenatore del nuovo Lanciano e per il calcio di serie D Barbarossa e Tarquini firmano altri due giovani per il Pineto Noi ci fermiamo per l'edizione odierna di mattino 6 vi ricordo l'appuntamento con le tre edizioni principali del nostro notiziario il TG6 delle ore 14 delle ore 19 e delle ore 23 e poi vi ricordo questa sera l'appuntamento alle ore 21 in diretta dai nostri studi con Velo il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo condotto da Jacopo Forcella con in studio anche Luciano Rabottini grazie a Claudio Di Giacomo in regia grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti